Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi oggi vi spiego come trovare la magia e la forma invisibile, molto semplice questo è l'ultimo stemma che sono riuscito a trovare, quindi sono tre stemmi, tre quindi li trovate tutti e poi dirigetevi alla torre del miraggio questa è la posizione esatta ma non vi preoccupate perché a un minuto e venti vi mostro tutta la mappa dove ho trovato la torre perché una volta trovata dirigetevi lì, proprio lì alla torre invisibile, era ovvio che si chiamava così, però si chiama torre del miraggio entrate dentro e non solo troverete un solo incantesimo ma due incantesimi questo è il posto, proprio qua vicino alla torre troverete altri due stemmi quindi toccateli e si sbloccherà così la torre nel momento che metto un po' la lanterna per fare un po' di luce salite fino a sopra e troverete i due incantissimi e poi dopo andiamo a provarli Grazie mille! Eccoci qua ragazzi Questa è la lama invisibile Non possiamo provarla con il sigillo Possiamo solamente usare il bastone Eccolo qua Tocco la spada Guardate un po' che bell'effetto Eccola che è invisibile E un'altra cosa ragazzi Voi non potete usare questa magia su lame Che sono già spade incantate Quindi scordatevi Non potete Scordatevelo veramente Non potete usare questa magia Su queste spade Tipo questa qua la fiume di sangue E no non si può usare Ci ho provato niente E niente Adesso proviamo un attimo Un'altra spada per vedere Ecco qua Spada alla marce scente Vediamo un attimo Eccola Ah si questa funziona Ok Ora proviamo quella Eh si Questa qua La forma invisibile Non è cambiato nulla Non lo so come funzioni Forse se ti vede il nemico Non lo so come funzioni Però questo è l'incantissimo Quindi Grazie a tutti per questa visione Ragazzi Spera tanto che il video vi è stato utilissimo Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina E noi ci vediamo Ad un prossimo tutorial Ciao 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 Grazie a tutti